Sì, siamo contenti di aver finito bene questo campionato, era quello che dovevamo fare. Anche se non abbiamo vinto il campionato, comunque credo che abbiamo disputato una stagione in crescita. Quindi questo è l'importante, quindi abbiamo creato secondo me le basi per il futuro. Io sono contento di aver fatto la stagione che ho fatto, sono partito magari da non giocare, però comunque sono cresciuto e quindi siamo contenti di aver portato a casa la finale playoff. Nel mio futuro comunque vedo ancora di crescere molto, sicuramente i compagni, tutto lo staff e la società mi hanno aiutato a crescere, quindi secondo me questo è stato fondamentale per la mia stagione. No, siamo stati super contenti di aver vinto, perché comunque anche oggi è stata una partita molto combattuta e abbiamo vinto con un pareggio anche questa volta, quindi c'è stata soddisfazione e soprattutto un po' di libertà, abbiamo liberato dalla tensione che avevamo. Beh, secondo me le qualità di un giocatore a volte sono quelle, cioè sono più importanti quelle mentali che tecniche, però sono cresciuto sia su quelle mentali che su quelle tecniche, quindi questo secondo me è l'importante. La parata più bella stagione comunque è stato vasto di girare di campo basso e comunque hanno portato dei punti fondamentali. Oggi ho dato il mio contributo come l'hanno dati tutti, quindi questo è l'importante. Sì, certo, comunque all'inizio magari non ho iniziato nel miglior modo, però le critiche mi hanno solo aiutato a migliorarmi, quindi fa parte del calcio ricevere critiche.